Divisa in due l'Italia con il tragico 8 settembre, viene spezzata anche l'unità della superstite aeronautica. C'è chi ritiene così che la salvezza della patria sia da ricercarsi tra le file dei soldati del nord, chi invece, e sono i più, restando al sud, alle dipendenze del governo legittimo. Sono passate appena 12 ore dal proclama del maresciallo Badoglio che il mattino del 9 settembre una pattuglia si leva in volo per un'azione di scorta ad un convoglio navale minacciato da forze aeree e tedesche. Amici di Radio Giano, ben ritrovati ad una nuova puntata della rubrica Racconta la tua storia. In studio è il vostro speaker, Luca Perrone, che vi introduce subito gli ospiti di questo scoppiettante appuntamento. Graditissimo ospite in questa puntata, Marco Lodi, fondatore dell'Associazione Culturale che porta il nome del padre, del periodico Giano Storia, Memoria, Ricerca, e insieme agli amici e soci Tarquini e Virgilio di Radio Giano. Questa sera è qui con noi però in qualità di Vice Presidente Vicario Nazionale Aeronautica dell'Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione. Per approfondimenti sulla reggia aeronautica collegatevi al sito bibliolorenzolodi.it slash aeronautica 4345 ripeto bibliolorenzolodi.it slash aeronautica 4345 ricco di mappe interattive, notizie sul fronte militare clandestino, decorati e tante altre cose che non vi voglio assolutamente anticipare. Ciao Marco. Ciao, ciao Luca. Grazie, grazie dell'ospitalità. A seguire Luciano Alberghini Maltoni, romano, classe 1952, figlio di un avviatore che prestò servizio nella reggia aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale nel Dodecanese e poi in Italia nello stormo Baltimore. Tra i primi ad occuparsi delle vicende del Dodecanese italiano ha progettato e realizzato nel 1997 l'unico sito tematico italiano sull'argomento www.dodecaneso.org. Ripeto anche qui www.dodecaneso.org. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su riviste specializzate come rivista aeronautica, storia militare, eserciti nella storia africana e altri. Ciao, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Giano e ovviamente grazie a Marco Lodi. Bene, tra i vari articoli pubblicati, cari amici di Radio Giano, in occasione del numero speciale di Giano, storia, memoria e ricerca per il 75esimo anniversario del 25 aprile, faremo un breve approfondimento oggi su quello pubblicato a pagina 29, scritto da Luciano Alberghini Martoni e intitolato lo stormo Baltimore della regge aeronautica nella guerra di liberazione 1944-1945. Prima di affrontare però la questione, diciamo, di entrare in media stress, linea la regia. Parla Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Il temperino non è affilato. La biblioteca è aperta. I cassetti sono vuoti. Gli scaffali sono blu. Parla Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Buonasera a tutti i radioscoltatori di Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Nei due mandati di Vicepresidente nazionale aeronautica, oltre a far conoscere l'apporto dato dalla reggia alla guerra di liberazione, abbiamo intrapreso molte iniziative, commemorazioni, ricerche in archivio, visite guidate nei musei e incontri corretucci della Seconda Guerra Mondiale con studenti e cittadini. Grazie a un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai patrocini dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, agli studenti Scienze Storiche del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma 3 e grazie al patrimonio della nostra biblioteca, dopo circa un anno di ricerche, consultando faldoni, fotografie, sfogliando documenti di volo e monografie, abbiamo realizzato una mostra edinerante dal titolo, l'Aeronautica militare nella guerra di liberazione 43-45 con belligeranza e resistenza, formata da 11 pannelli con dimensioni di 1,70 m e un sito web in costante aggiornamento. La mostra la diamo in comodato d'uso. Per informazioni inviate una mail a info-bibliolorenzolodi.it oppure un vocale o un messaggio al numero WhatsApp 351-892-1867. Ora una breve introduzione all'argomento di questa sera. Quando si parla di forze armate, l'immaginario collettivo pensa immediatamente alle forze di terra, l'esercito. Ma anche altre forze, come la Marina e in questo caso l'Aeronautica, hanno dato un importante contributo di uomini e mezzi quando c'erano. Oggi parleremo della regia aeronautica, poi dal 1947 aeronautica militare. L'Aeronautica viene a conoscenza della resa incondizionata la sera dell'8 settembre 1943. Nei giorni seguenti affluiscono negli aeroporti di Puglia, Sicilia e Sardegna 201 velivoli, 37 caccia, 47 idrovolanti, 117 bombardieri tra aereo siluranti e de trasporto, dei quali però soltanto un centinaio pienamente efficienti. A questi si aggiungono altri aerei, a quelli già trasferiti negli aeroporti del meridione, disponibili circa 200 velivoli operativi. L'attività della regia aeronautica inizia il 9 settembre, quando quattro macchie C-202 cercano di scortare la flotta a Malta. Tra il 13 e il 25 gli aerei portano soccorso ai soldati che combattono a Cefalonia, Corfu e in Sardegna. A fianco degli alleati l'aeronautica entra dopo il 13 ottobre, con la dichiarazione di guerra alla Germania e il riconoscimento della cobeligeranza. Gli aerei italiani saranno impiegati in azioni offensive, difensive, di rifornimento, aviosbarco e trasporto in favore dei contingenti italiani alleati nei Balcani e nelle isole ioniche. In seguito gli alleati le assegnano altri aeroplani, i Bell Peak 39 Air Cobra, i Martin 187 Baltimore e gli Spitfire Mark V, aerei certo non nuovi ma ancora funzionanti. L'attività nei Balcani continua fino alla fine del febbraio 1945, ma anche dopo il 29 aprile e almeno fino alla resa tedesca in Italia, Baltimore e Caccia sono impiegati nelle offensive dei Balcani. Alla proclamazione del corto armistizio, anche l'aeronautica istituisce un fronte militare clandestino aeronautico strutturato in 11 bande. La sua attività, soprattutto di controspionaggio nell'Italia centrale e settentrionale, si svolge anche con azioni di sapotaggio e guerriglia. Molti pagheranno la vita alle fosse erdatine. Terminate le ostilità, l'aeronautica conterà tra i caduti 125 ufficiali, 209 sotto ufficiali e 1317 avieri. Per concludere, la collezione dedicata all'aeronautica militare presso la nostra biblioteca è stata intitolata ai generali Roberto Lordi e Sabato Martelli Castaldi, che dopo la prigionia le torture subite nella casa prigione di Via Tasso, poi alle fosse erdatine. Entrambi decorati in medaglia d'oro al valore militare alla memoria. Grazie. Grazie Marco, molto interessante, grazie per il tuo intervento. Io direi una breve pausa prima di continuare l'intervista con Luciano, linea alla regia. Radio Giano Podcast Bene, eccoci tornati in studio con Luciano che andiamo ad affrontare il perché del suo articolo sullo stormo Baltimore. Luciano, la prima domanda che vorrei porti è questa. Perché è stato scelto di scrivere un articolo sullo stormo Baltimore in occasione del numero speciale del periodico Giano per il 75esimo anniversario del 25 aprile? Allora, la risposta è in una cloche appesa nella casa di famiglia per molti anni, tantissimi anni. Questa cloche io non gli ho mai attribuito particolare importanza, ma in realtà era la cloche di un aereo su cui ha volato mio padre che apparteneva allo stormo Baltimore. Pertanto mio padre era un aviatore, un sottoufficiale dello stormo Baltimore, pur non avendo mai raccontato la sua storia perché evidentemente è la storia della sua fuga dal Dodecanneso perché si trovava a Rodi all'epoca dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Io ho dovuto riscrivere, come dire, ho dovuto cercare dopo la sua morte, dopo la sua scomparsa nel 75 e ho dovuto cercare un po' tra gli archivi anche tra le testimonianze di mio zio che era ancora vivente e di mia zia. E ho scoperto che mio padre con altri commilitoni fece una fuga avventurosa dai tedeschi, dalla prigionia dall'isola di Rodi e come molti altri lui fu fortunato, altri furono meno fortunati perché non si sa esattamente quanti morirono in questi tentativi. Quindi approdò in Turchia, dopodiché in Turchia c'è tutta una storia da raccontare sull'internamento di questi militari e comunque lui nel 1944 poi riuscì a tornare in Italia e riprendere servizio proprio nello stormo Baltimore. e quindi tutto questo mio articolo è il frutto di una ricerca di molti anni tra fotografie, ricordi dei parenti e anche la ricerca di militari che attraversarono con quella barchetta, attraversarono l'Egeo. E quindi questo articolo rappresenta appunto questa ricerca, questo sforzo che ho fatto per diversi anni. Ed è un articolo che io ho dedicato proprio ovviamente agli aviatori che combatterono nella guerra di liberazione, ma è naturalmente un contributo a tutti coloro che hanno combattuto nelle forze armate regolari, la guerra di liberazione. Bene, grazie Luciano. Prima di continuare la nostra intervista, un breve stacco, l'ina la regia. Radio Giano Podcast Grazie a tutti. Radio Giano Podcast Eccoci di nuovo in studio con Luciano. Luciano, alla domanda secca, se ti ponessi la domanda secca, che cos'era lo stormo Baltimore? Tu come mi risponderesti? Facendo saltando la premessa che ha già fatto Marco precedentemente, ovvero della situazione della regia aeronautica dopo l'armistizio, posso tracciare una brevissima sintetica storia che era l'unica struttura esistente dopo l'armistizio, dopo la dichiarazione di guerra ai tedeschi che avvenne nell'ottobre del 43, il 13 ottobre del 43, immediatamente dopo fu costituito il 15 ottobre il comando unità aerea, in cui c'erano tutti i mezzi superstiti della reggia aeronautica, quindi abbiamo detto bombardieri, caccia e idrovolanti. Purtroppo però non erano operativi salvo i caccia di MC202, pertanto gli alleati fornirono una serie di velivoli, tra cui il famoso Martin Baltimore e quindi gli avviatori che costituirono questo stormo da bombardamento, che ripeto fu l'ultimo stormo da bombardamento della reggia aeronautica durante la guerra, venivano dal Daldo De Canneso, in particolar modo venivano dagli stormi dai gruppi aerosiloranti, tant'è vero che uno dei più famosi piloti di aerosiloranti, che si chiamava Carlo Emanuele Buscaglia, faceva parte appunto del 132esimo gruppo autonomo aerosiloranti, che poi fu appunto, divenne lo stormo baltimo. E quindi gli avviatori italiani si trovarono ad affrontare tantissimi problemi, il primo di tutti era il problema logistici, ma soprattutto erano problemi tecnici, addistrativi, perché molti di loro non conoscevano l'inglese, anzi quasi tutti, e gli venne dato in dotazione questo velivolo bimotore, era un bombardiere bimotore, con la particolarità che aveva soltanto un posto di pilotaggio, non aveva l'affiancamento in tandem come gli altri bombardieri. E quindi c'erano molti problemi, l'affiancamento veniva fatto come in alcuni velivoli moderni, jet in fila. E quindi si trovarono ad affrontare grandi difficoltà, perché venivano da una concezione tecnica totalmente superata, e quindi si trovarono a dimostrare agli alleati, soprattutto agli inglesi, alla Royal Air Force, che erano in grado, che loro potevano ancora essere validi come combattenti e come avviatori, cosa che in realtà ha funzionato perfettamente, devo dire, dopo i primi tempi. Lo stormo fu costituito ufficialmente nel 44, a metà del 44, nell'estate del 44, presso un campo di infortuna che stava vicino a Napoli. Dopodiché lo stormo fu sportato in un campo, in un aeroporto, ma in realtà gli aeroporti non esistevano, non erano semplicemente delle piste erbose, che si trovava, si chiamava Campo Marino. E qui si trovarono nell'inverno del 44, con grandissime difficoltà. Uno dei pochi ricordi di mio padre, che aveva raccontato, era la sua vita in tenda, perché in questo aeroporto, in questo campo, diciamo che Campo Marino era proprio un prato, praticamente riva al mare, loro dovevano, vivevano in tenda, e quindi avevano tutte le difficoltà di, immaginate, di dover far volare 30 aerei, di mantenere efficienti 30 aerei, al tempo stesso vivere in pieno inverno in queste tende. E appunto, questo è uno dei pochi ricordi che lui mi raccontava, e in particolar modo una cosa simpatica, che lui mi raccontava di un suo collega che fumava al buio, diceva, ma che gusto ci provava a fumare al buio? Nessuno lo capiva, però insomma avevano queste tende con queste stufe. La campagna di bombardamento che lo stormo Baltimore effettuò era diretta prevalentemente, era diretta soltanto nei Balcani, ma questo per un motivo molto intuitivo, molto semplice, cioè non si poteva andare a bombardare il territorio italiano, cioè avrebbero avuto grandissimi problemi. E quindi fu deciso di far orientare l'attività verso i Balcani, e quindi a supporto dei partigiani di Tito, mentre i tedeschi, ripeto, avevano abbandonato la Grecia e si stavano ritirando a Jugoslavia. Bene, grazie Luciano. Linea la regia. Impegnata anche in operazioni aeronavali e in missioni d'appoggio alle formazioni partigiane operanti nell'Italia settentrionale, l'aviazione italiana dà alla guerra di liberazione il contributo di 4.000 azioni belliche, tanto da destare la sincera ammirazione di capi alleati come Churchill, Iker, Paon Buscarle, Foster. Eccoci di nuovo in diretta con Luciano che stiamo parlando appunto dello stormo Baltimore, il riferimento a quanto scritto sull'ultimo numero della rivista Giano Storia, Memoria e Ricerca. Luciano, una domanda volevo porti proprio collegandomi a quello che hai appena detto. Qual è stata l'importanza di questo stormo nella guerra di liberazione? Possiamo dire che l'importanza dal punto di vista bellico è stata relativa perché parliamo sempre di poco meno di 30 velivoli, però la partecipazione dello stormo Baltimore alla guerra di liberazione è stata fondamentale dal punto di vista, è stata molto importante dal punto di vista di immagine e politico perché gli aviatori italiani hanno conquistato la piena fiducia della RAF degli inglesi, loro operavano nell'ambito di un raggruppamento che si chiamava Balkan Air Force che includeva neozelandesi, greci, sudafricani e quindi una vera e propria armata aerea multinazionale e quindi loro riuscirono a dimostrare che erano assolutamente adatti, adeguati a combattere una guerra moderna ovviamente con strumenti più moderni di quelli che aveva la regge aeronautica precedentemente, ma secondo me la cosa ancora più importante è il ruolo proprio di liberazione che essi ebbero perché già dal loro internamento abbiamo detto che erano quasi tutti provenienti dall'Egeo, dal Dodecanneso e già nei campi di internamento che erano in Turchia e in Palestina e in Egitto loro già avevano dichiarato ufficialmente che volevano continuare la guerra a fianco degli alleati per la liberazione d'Italia. Io ho trovato dei documenti negli archivi veramente devo dire commoventi, unici, addirittura un documento scritto a mano a firma del capitano pilota Giacomelli già comandante del 153 54esimo gruppo caccia terrestri di Rodi che scriveva dal campo di internamento di El Burey in Palestina e si rivolgeva direttamente al capo di stato maggiore Sandalli e diceva dichiarava che tutto il personale lì diciamo internato era disponibile a tornare immediatamente in patria e continuare la guerra contro i tedeschi questo era una cosa fondamentale un documento veramente fondamentale e c'era tutto l'elenco del personale tra cui c'era anche quello di mio padre un'analoga lettera fu scritta nel 44 nell'aprile del 44 dal tenente colonel Giannone del comando aeronautico del Egeo che dopo aver elencato tutto il personale dichiarava letteralmente siamo anelanti di ritornare in patria di poter unire le nostre forze per la liberazione dell'Italia nostra quindi tutti questi aviatori furono rimpatriati tra maggio e luglio del 44 e destinati allo storm Baltimore e questa mi sembra veramente una cosa di un'importanza veramente notevole incredibile perché questi aviatori questo personale che poteva tranquillamente rimanere lì internato perché nessuno gli aveva chiesto di combattere hanno volontariamente con la massimo trasporto con la massima direi determinazione hanno richiesto di voler continuare la guerra contro i tedeschi per la liberazione d'Italia e questa credo che sia veramente la cosa più importante da tutti i punti di vista quindi al di là delle valutazioni che poi fecero gli alleati e la RAF in particolar modo perché valutavano tutti i giorni gli effetti dei bombardamenti addirittura alcuni nostri piloti tra cui Massimiliano Erasi che poi è caduto è stato decorato di medaglia d'oro al Valor Militare e veniva chiamato Mister Bridge addirittura per la sua capacità di distruggere i ponti per impedire la ritirata dei tedeschi e quindi pagarono un tributo pesante perché comunque i tedeschi non è che così accettavano passivamente questi bombardamenti ma si difendevano accanitamente con i radar e con la contraerea e questo è un tributo pesante che loro pagarono ovviamente però l'ultimo bombardamento fu fatto anzi direi che storicamente possiamo dire 5 maggio del 45 12 Baltimore partirono per bombardare la stazione ferroviare di Zagabria ma furono richiamati perché la guerra era finita quella è stata l'ultima missione della reggia aeronautica durante la guerra bene grazie Luciano amici di Radio Giano non ci abbandonate torniamo subito con Luciano e con Marco Lodi per parlare ancora dello stormo Baltimore dopo una brevissima pausa linea la regia vorresti partecipare alla crescita della radio collaborando con la redazione inviaci un tuo curriculum vite a radiogiano chiocciola bibliolorenzolodi punto it eccoci di nuovo in diretta amici di Radio Giano con Luciano e Marco Lodi e andiamo Luciano volevo farti un'altra domanda ci tengo molto a questa perché si parla di memoria e quindi ti volevo chiedere cosa rimane oggi dello stormo quale memoria dello stormo Baltimore allora a livello documentale abbiamo numerose pubblicazioni che riguardano la reggia aeronautica cobelligerante che possono essere consultate appunto nella biblioteca Lorenzo Lodi che è ricchissima da questo punto di vista di testi aeronautici voglio citare alcuni libri lo stesso Martino Eichner che era un pilota degli aerosicuranti che pubblicò un libro Murcia nel 2008 Giulio Lazzati Stormi d'Italia storia dell'aviazione militare italiana anche qui e Ugo Murcia e infine direi il testo fondamentale di Angelo Lodi ex direttore dell'ufficio storico dell'aeronautica militare testo si chiama l'aeronautica militare italiana nella guerra di liberazione 1943-1945 della Bizzarri di Genova 2008 dopo che abbiamo parlato dei documenti dei documenti dei testi che raccontano in parte questa storia dello stormo Baltimore direi che c'è ben poco perché dei velivoli Baltimore in Italia non ce ne sono più al museo di aeronautico di Vigna di Valle sono conservate alcune parti di questo velivolo mentre c'è il predecessore dello stormo Baltimore c'è un bellissimo trimotore SM79 con la stemma della squadriglia dei quattro gatti troviamo ancora tracce di questi aviatori in un altro velivolo moderno nei caccia AMX del terzo reparto con lo stemma dei quattro gatti con la scritta Buscaglia sempre questo famoso pilota e questo caccia ormai è fuori servizio insomma da molti anni si trova sempre al museo aeronautico di Vigna di Valle gli unici due velivoli conservati al mondo Baltimore si trovano uno in Sudafrica e un altro in Nuova Zelanda perché abbiamo detto che c'era nella Balkan Air Force c'erano i sudafricani e i neozelandesi degli aeroporti che furono utilizzati dallo stormo Baltimore in Italia anche qui purtroppo non rimane assolutamente nulla Campomarino l'aeroporto che era un prato praticamente è stato divorato dalla spiaggia e dalle costruzioni ovviamente e di questa c'è l'unica traccia c'è il viale degli aviatori a Campomarino che ricorda questa presenza molto indirettamente di Campo Vesuvio che è stato il primo aeroporto di base dello stormo non c'è ovviamente più nulla io titolo dalla speculazione edilizia nella zona di Ottaviano possiamo immaginare in realtà ci sono io stavo anche facendo una ricerca apro una piccola parentesi su questi 30 aeroporti scomparsi vestiti dagli alleati nell'ambito di quello che era chiamato il Forgia Airfield Complex anche se in realtà coinvolgeva sia la Puglia che il Molise molti di questi aeroporti si trovano ancora in Abruzzo e Molise io sono andato anche a qualche paio di anni fa a fare un giro da quelle parti ho trovato qualcosa piccole cose un'altra testimonianza molto labile la troviamo nel comune di Fiumicino dove una strada è dedicata al maggiore Massimiliano Erasi caduto nei cieli dei Balcani proprio con lo stormo Baltimore medaglia d'oro al valore militare e purtroppo questo è tutto quindi spero che il mio articolo possa aver contribuito un po' a sollecitare questa curiosità su questo capitolo poco conosciuto del contributo dei nostri militari combattenti irregolari nella guerra di liberazione perché ricordiamolo che la guerra di liberazione 50.000 militari italiani hanno dato la loro vita e questo non lo si ricorda quasi mai ci auguriamo anche noi che questo articolo e la nostra breve intervista possa contribuire a recuperare la memoria di ciò che è stato Marco su questo tema vorrei coinvolgerti perché la memoria sicuramente è un tema centrale per Radio Giano Sì Luca ho ascoltato con attenzione quanto ha detto Luciano che condivido pienamente diciamo che nei miei due mandati come hai illustrato tu come vicepresidente nazionale aeronautica mi sono dato molto da fare per quanto riguarda la valorizzazione e la conoscenza di quanto ha fatto l'aeronautica perché appunto come nel mio discorso introduttivo quando si parla di forze armate si parla esclusivamente diciamo dell'esercito quando invece oltre l'aeronautica c'è la marina militare la guardia di finanza i carabinieri stessi la polizia come anche i vigili del fuoco anche se non è un corpo militare quindi tutti coloro che avevano una divisa hanno dato una mano diciamo affinché la guerra di liberazione e la resistenza come dire ci hanno liberato dal nazifascismo ma come dicevi tu la memoria oggi nel 2020 è un discorso molto ampio ormai diciamo i protagonisti di quell'epoca sono quasi tutti deceduti è rimasto qualcuno ultra novantenne se non centenario e quindi è difficile anche portarli come dire nelle scuole oppure parlare con loro raccogliere le ultime testimonianze eccetera io ho conosciuto volevo portare la testimonianza di un motorista che ho conosciuto Dante Tatti il quale sono diventato molto amico mi ha fatto vedere il suo diario le fotografie inedite del suo Savoia Marchetti 79 ha iniziato in Albania come motorista Albania Grecia El Alamein mi ha raccontato la ritirata che ha fatto l'ereggio renatica da El Alamein fino in Tunisia quindi buttati a mare dagli alleati è tornato in Italia tra mille peripezie a Roma si è trovato l'8 settembre a Roma e quindi era strellato dai tedeschi messo su un treno e portato nei campi di concentramento arrivato ad Innsbruck questo Dante Tatti incontra un ufficiale tedesco che non conosceva il quale ufficiale tedesco erano lo stesso aeroporto in Nord Africa insieme a lui non si conoscevano però si sono ritrovati ad Innsbruck e quindi il cameratismo ritrovato diciamo così questo ufficiale tedesco lo assume tra virgolette come autiere e quindi come autiere dei tedeschi lui si è salvato finita la guerra e torna da piedi dall'Austria dove stava fino a Roma ecco questa è una memoria raccontata molto velocemente dove nel suo diario io ho letto dove ha trascritto nomi e cognomi di tanti suoi commilitoni di ufficiali sotto ufficiali la tragedia poi diciamo di queste persone che hanno vissuto non soltanto dopo l'8 settembre ma anche prima dell'8 settembre quindi proprio le guerre che sono state dichiarate alla Russia prima alla Gran Bretagna poi gli Stati Uniti l'invasione della Russia la campagna di Grecia ad Albania al Nord Africa leggeo appunto come diceva Luciano quindi la memoria oggi è molto difficile specialmente come dire trasmetterla alle cosiddette nuove generazioni perché ci sono anche le mezze come dire le generazioni di mezza età che non conoscono tanti argomenti la storia proprio la storia italiana della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione quindi c'è molto da lavorare noi ce la mettiamo tutta sia con la nostra rivista Giano storia memoria ricerca e sia con la radio in modo da fare una divulgazione più dettagliata comunque vi ricordo che in biblioteca abbiamo una vastissima un vastissimo assortimento di pubblicazioni sia sull'aeronautica la marina l'esercito gli internati militari la campagna di Russia eccetera insomma quindi vi invito a venire da noi grazie bene amici di Radio Giano siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata non mi resta che darvi appuntamento per i prossimi incontri e ringraziarvi per l'interesse dimostrato grazie per aver ascoltato Radio Giano storia memoria ricerca e ringraziarvi e ringraziarvi Grazie a tutti. Grazie a tutti.